Terra Amara, episodio numero 20 Anticipazioni Demir scopre che Ilmars diventerà un uomo libero. L'imprenditore non esiterà a andare in prigione per impedire che questo accada. Quando arriva alla stazione di polizia, rimane deluso. Non c'è niente che possiamo fare. Ilmars Sakai ha lasciato la prigione, dice il direttore del carcere. Demir furioso prende una fotografia del rivale e torna a Kukurova. Ordina a un suo lavoratore di trovare Ilmars prima che raggiunga Zuleyha. Ilmars lascia la prigione, il giovane che non ha avuto nessuna notizia della sua fidanzata. Deciderà di andare alla tenuta della famiglia Yaman per vedere Zuleyha. Nel frattempo Sermin mette in atto un piano per uscidere il figlio della giovane. La moglie del medico, con la complicità di Sanier, lasciano un serpente nella sua stanza. La mattina seguente, Zuleyha si sveglia e vede il serpente. La paura prende il sopravvento e la ragazza finisce per cadere dalle scale. La matriarca, che in quel momento si trova fuori dalla villa, sente le urla della moglie di Demir. La signora si precipita ad aiutarla. Tuttavia è troppo tardi. Zuleyha è già a terra priva di sensi. Inutile dire che il primo pensiero di Unkar sarà rivolto al bambino. Per complicare ancora di più la situazione, Sabatine non è a Kukurova in quel momento. Per fortuna arriva una donna anziana che fa la levatrice. È stata chiamata dalla matriarca per aiutare Zuleyha nel parto. Questo incidente porterà Zuleyha a partorire in anticipo. Nel momento in cui la giovane è in travaglio Ilmas e Demir arrivano alla villa. Quest'ultimo intravede il rivale e lo affronta. Quando Ilmas riesce a fermare l'aggressore Garfur interviene in difesa del suo padrone. Gulten, ancora una volta, sarà l'unica a vedere la scena. La giovane realizza che Ilmas è vivo, ma potrebbe morire per mano di suo fratello Edemir. Lo uccideranno, dice la domestica in lacrime. Zuleyha ha appena messo al mondo un bambino bello e in salute di nome Adnan. Le ha tre due domestiche insieme a Sermir. Spettegolano su fatto che la giovane andava a letto con Demir prima del matrimonio. Nel frattempo Ilmas è torturato per mano di Demir e Garfur. Il giovane sarà in fin di vita, ma Gulten e Sabatine lo salveranno. Dopo aver maltrattato il rivale, Demir torna a casa e prende in braccio il figlio per la prima volta. L'uomo dice alla moglie che adesso vivranno una vita da favola. L'episodio numero 20 finisce con Alifele Kelly. L'ex compagno di prigione di Ilmas che arriva a Kukurova e guarda un carda lontano si capisce che si conoscono. Questo nuovo personaggio porterà altre incredibili dinamiche nella trama. Le anticipazioni terminano qui, per non perdere altri video iscriviti al canale. Grazie. Grazie.